ciao ragazzi sono mauro del mondo del barbecue di padova il negozio numero uno in italia per barbecue e cucine da esterno oggi voglio presentarvi un prodotto che ci è arrivato da poco e che teniamo in negozio da pochissimo tempo ma a me piace veramente tanto è bellissimo e facilissimo da usare parliamo del marchio bfeeter bfeeter marchio australiano che fa prodotti di altissima qualità anche molto grandi in più fa dei prodotti un po più piccoli che si chiamano bug questo il family bug e c'è anche il bug un po più piccolo che ha una superficie di cottura leggermente più piccola che presenteremo un po più avanti allora il family bug in questo caso con carrello è una macchina con griglia di cottura da 65 centimetri quindi molto molto grande per 51 centimetri di profondità come principio di funzionamento assomiglia tantissimo alla serie q della weber perché vi faccio notare la griglia che ha questo sistema dove il grasso scende dai lati e non va mai a toccarmi i bruciatori ma va tutto all'interno nella vasca da quelli grasso che io estrarò frontalmente quindi comodissima anche nell'utilizzo vi faccio notare subito il peso le dimensioni di questi bruciatori che sono veramente molto molto rilevanti è fornito di serie di griglia e piastra reversibile dall'altra parte liscia completamente liscia oppure con le righe se voglio dare un tocco alle mie pietanze particolari i bruciatori sono due quindi posso decidere se accenderli entrambi oppure se parzializzare il mio barbecue in due zone separate il coperchio un coperchio in acciaio smaltato di elevato spessore con guarnizione che chiude benissimo nello stesso tempo è fornito di due colori questa arancione lucido e un nero lucido che danno un tocco veramente molto molto particolare a questo barbecue vediamo che il termometro arriva a temperature veramente elevatissime si parla di 340 gradi per arrivare poi una zona di over eating quindi secondo me supera i 350 gradi senza nessun problema la macchina è potentissima abbiamo circa 9 kilowatt di potenza su un barbecue che con questo sistema di cottura sono veramente elevati altra cosa importantissima questo barbecue si può richiedere kit a metano certificato quindi se uno piace vuole un barbecue non eccessivamente grande può chiedere kit di trasformazione metano veramente una figata altre cose a dire di questo prodotto i due ripiani sono facilmente staccabili ok quindi se voglio ridurlo ulteriormente di spazio arrivare neanche al metro tolgo i due ripiani il barbecue diventa veramente piccolo il carallo un carrello pesantissimo il barbecue pesa oltre 45 kg veramente tosto in più altra cosa interessante posso staccare il barbecue dal carrello sganciandolo dietro lo porto al mare lo porto in montagna lo porto dove voglio diventa un vero barbecue trasportabile vi faccio notare anche alcuni particolari del carrello ripiano dove posso mettere salse e spezie le ruote molto grandi molto comode per il trasporto anche su terra o su sul giardino e dietro seguimi giorgio due cose che sono una figata questo sistema di fuoriuscita del calore di fumi che sembra un'astronave è veramente bello 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 il gancio per sganciare il barbecue dal carrello come abbiamo detto prima e il supporto per la bombola quindi io la bombola la aggancerò qui nella parte superiore e non se ne andrà in giro oppure non me la trovo per terra quindi muovo il barbecue e allo stesso tempo io muoverò la mia bombola allora che dire di questo barbecue a me piace veramente tanto è solidissimo pesantissimo abbastanza grande lo diamo per circa 12 coperti li fa tranquillamente forse anche 14 è facile da usare è pratico vi danno già la griglia e la piastra c'è la possibilità di aggiungere un eventuale griglia per farlo diventare un tuta griglia quindi se uno non serve la piastra la mette sotto e lo fa diventare un tuta griglia molto molto bello bene io sono arrivato alla fine di questa breve presentazione del bug vi ringrazio vi invito sempre a iscrivervi nel nostro canale youtube siete in tantissimi fa molto piacere il vostro seguito arriveranno un sacco di prodotti nuovi quindi state sempre sintonizzati e vedrete sempre tantissime nuove recensioni grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti